A pochi giorni al secondo anniversario della morte del piccolo Cocò, il bambino di tre anni di Cassano Ionio, ucciso e bruciato il 16 gennaio 2014, il papà Nicola Campolongo, da un anno ai domiciliari, a nome suo e della moglie, ha deciso di iscrivere al leader del movimento di diritti civili Franco Corbelli che si è sempre interessato alle sorti della famiglia per chiedere aiuto in relazione alla difficile situazione familiare. Dal 30 luglio del 2015 infatti le due figlie, Ilenia e Desiree, sono state portate fuori dalla Calabria in una struttura protetta e possono sentire telefonicamente il padre solo due volte alla settimana. Neanche per le festività natalizie è stato possibile incontrarle e l'uomo non ha potuto neanche far visita alla moglie detenuta in carcere. Nella lettera i due genitori raccontano come le figlie chiedono di tornare a casa. Con grande rispetto per la magistratura, detto Corbelli, chiedo per il genitore del piccolo Cocò un atto di giustizia giusta e umana. Antonio e Nicola Iannicelli chiedono solo di poter rivedere e di far ritornare a casa le loro due bambine. Chiedono solo il papà e la mamma del piccolo Cocò di avere un colloquio nel carcere dove la donna è detenuta. E chiedono soprattutto, conclude Corbelli, due ragazzi ricordo di appena 25 anni, di avere una possibilità di riscatto.